bologna roma termina 2 a 0 il bologna vince dunque contro la roma questa partita di serie di oggi 17 dicembre 2023 diciamo che in ogni caso la roma o meglio il bologna avrebbe vinto lo stesso stati fatto che questi due gol sono in realtà uno solo perché uno è un gol vero e proprio l'altro è un autogol va bene prima passiamo a parlare del primo gol vero e proprio di nicola moro nel primo tempo davvero molto bello da vedere il secondo autogol di tristense nel secondo tempo regolamentare le statistiche sono tutte a favore del bologna rispetto alla roma più possesso di pala più passaggi una precisione maggiore nei passaggi faccio inoltre presente sapere a tutti che il bologna è giocato in casa quindi in quelli di bologna in emilia non è stata infatti roma bologna non hanno stato olimpico della capitale ma ripeto proprio in quelli di bologna io ringrazio tutti quanti per la visione ma anche per l'ascolto di questo video di oggi utenti di youtube mi raccomando iscrivetevi commentate una buona sera da voi e al prossimo video